Ormai è questo il femminismo, non esiste più la donna deve essere a paritare dell'uomo, ormai è l'uomo che deve scendere, deve finire nel barato, perché l'uomo è una merda, l'uomo fa schifo, non merita di vivere, e la donna che ormai è stata bistrattata, lei è fragile, è sensibile e deve stare sopra, lei deve salire, deve evolversi, deve stare sopra il piedistallo, ma l'uomo deve cadere nella merda, l'uomo è uno schifo, semplicemente per il fatto che è nato un uomo. Scandalo, altro scandalo ragazzi, madame, qualcuno ha sentito quello che è successo a madame? Allora praticamente ha preso e ha deciso di fare un elogio agli uomini, si è presa e comunque ha esaltato quello che potrebbero essere la sensibilità che può avere un uomo e il fatto che sia bello, forte, quello che vuoi, perché cos'è venuto fuori? Se te parli di, uh che belli gli uomini, che bello tutto, ma sì, ma emozionante, quello che vuoi, arrivano le femministe, non arrivate le femministe, ma quelle tossiche, non quelle che dici parità di sesso, perché cos'è il femminismo? E' praticamente quello che prende e che promulga, o comunque promuove, la parità di genere. Nasce per rendere le donne uguali agli uomini, quindi per dare i diritti alle donne che non avevano. Una volta le donne non avevano certi diritti. Il femminismo nasce per questo. E il problema è che col tempo è diventato altro, che col tempo si è evoluto ed è diventato tossico, come qualsiasi movimento, ma di questo parleremo tra un po'. Cos'è successo? Praticamente le femministe le sono andate contro. Le hanno detto, perché comunque lei è vista, madame, è vista come un'icona, ok? Un'icona dei giovani, del femminismo, della comunità LGBT, anche perché comunque lei è genderfluid. E appello, se c'è una persona genderfluid, devo intervistarla, perché io genderfluid non lo capisco. Ne ho parlato un paio di volte in live, ragazzi, ma io ho il genderfluid, proprio non lo capisco. Quindi appello, se c'è una persona genderfluid qua, per cortesia mi scriva su Discord, mi scriva su Instagram dove vuole, perché ho bisogno di intervistarla, perché devo capirci di più, perché da quello che mi è stato passato da un paio di persone, da diversi forum, io ho tirato fuori che è una sorta di disturbo mentale, ma dubito altamente che sia un disturbo mentale. Quindi gentilissimi se qualcuno risponderà a questo appello, chiuso a parentesi. Comunque, no, si sono incazzate le femministe e le hanno detto, guarda, te non sei una donna che appoggia, te sei contro il femminismo, te sei una persona di merda, non puoi dire ste cose, perché te offendi, te offendi le donne che sono state pestate, che sono state maltrattate, le offendi, perché stai dicendo che gli uomini sono bravi, che gli uomini sono sensibili. Allora, amori, allora, come diceva Dam, non facciamoli tutta l'erba un fascio, non è che tutti gli uomini, in quanto uomini, sono dei molestatori seriali, non funziona così, perché esistono anche le donne che picchiano e molestano, noi l'abbiamo visto l'altra volta. Quindi, non diciamo stronzate? Diciamo stronzate. Grazie mille, gentilissime femministe tossiche, grazie. Che cazzo no, scusatemi eh, perché se ti mi tiri fuori il fatto che Madame prenda e decida di sua spontanea volontà di fare un elogio che si sente agli uomini, per motivi che vuole, ma semplicemente per libertà di espressione, per prendere e dire, ok, non tutti gli uomini sono dei maiali, non tutti gli uomini sono dei mostri, ed è giusto, ed è vero. Perché le femministe devono rompere i coglioni? Ma per qualsiasi cosa eh, perché ormai il femminismo non è più la parità dei geni, ormai il femminismo è l'uomo una merda deve morire. Ormai è questo il femminismo, non esiste più la donna deve essere a paritare dell'uomo, ormai è l'uomo che deve scendere, deve finire nel barattolo, perché l'uomo è una merda, l'uomo fa schifo, non merita di vivere. E la donna che ormai è stata bistrattata, lei è fragile, è sensibile e deve stare sopra, lei deve salire, deve evolversi, deve stare sopra al piedistallo, ma l'uomo deve cadere nella merda. L'uomo è uno schifo, semplicemente per il fatto che è nato un uomo, che poi possa essere gentile, che poi possa essere nevatico, non gliene frega un cazzo, perché è un uomo, e in quanto uomo fa schifo. È questo che sta diventando il femminismo, è questo che adesso è il femminismo radicale, ok? Perché come qualsiasi idea positiva, deve diventare merda. Quante idee, nella storia, che sono nate con un qualcosa di positivo, come un qualcosa di rivoluzionario. Prendiamo conto il comunismo. Ok, per quanto sia stata un'idea utopistica, irrealizzabile, tutto quello che volete. Il comunismo nasce come qualcosa di positivo, come qualcosa di paritario, come qualcosa di... Che promuove l'uguaglianza. E promuove l'eliminazione delle classi sociali. La storia l'ha portata alla merda. Stalin era una testa di cazzo. Il comunismo, adesso, che esiste ancora in Cina, è una merda. Ma non perché l'idea sia una merda. Ed è positiva. Ma noi uomini facciamo così schifo, in quanto uomini, non discerniamo la donna o l'uomo, il genere femminile o il genere maschile. Noi, in quanto uomini, facciamo... Siamo una merda. Tutti siamo una merda. Solo per il fatto di essere uomini. Perché riusciamo a prendere e a portare un pensiero così... così bello, così positivo come il femminismo, come la parità dei generi. E riusciamo a mandarla nel cesso, passandola come l'uomo deve morire. Come il classismo, la superiorità della donna. Perché è questo che diventa il femminismo adesso. E questo lo schifo. È qua che noi riusciamo a prendere e riusciamo a buttare nel cesso un'idea positiva, come l'uguaglianza di genere. Ma non perché l'idea sia malfamata di per sé. Non perché l'idea sia fallacea. Ma perché siamo una merda. Siamo una merda. Ci montiamo la testa. Noi cerchiamo lo schifo, cerchiamo il confronto, cerchiamo di devastare le persone. Vogliamo essere migliori. E nell'essere migliori, noi rischiamo di distruggere gli altri. Le prendiamo e abbissiamo quello che è il rivale. Le prendiamo e lo mettiamo sotto terra. Perché è questo che fanno le femministe. Le femministe nascono. Come la meraviglia, la parità di genere, il diritto al voto, il diritto a quello. E quello con la tecualità contro l'avvenenza, giustamente. Ma poi diventano una merda. Ma poi diventano una persecuzione all'uomo. Un odio. Uno schifo. E' questo che diventa il femminismo. E' questo che diventa un qualsiasi pensiero che viene portato avanti malamente. Diventa estremismo. Guarda le religioni. Guarda l'islam. Guarda la merda che è l'islam. E' nato come... Una religione è qualcosa di positivo, no? Perché alla base di una religione c'è sempre qualcosa di positivo. Perché dici, è la voglia di, non lo so, di sentirsi parte di qualcosa, sentirsi più grande rispetto al nostro... Affrontare la paura della morte in modo diverso. Prendere, avere una rassicurazione, una consolazione. E va bene. E' positivo. Per quanto sia una falsa speranza, per quanto sia una falsità, è tutto. E' positivo. Se una persona si vuole coccolare in questo modo, se una persona vuole scappare dalle realtà così, chi siamo noi per dirgli di no, ragazzi? Chi siamo noi? Nessuno. Però la religione col tempo è diventata una merda. Vedete le crociate, vedete la persecuzione delle streghe, della scienza. Vedete adesso l'isis, delle spose bambine. Vedete la merda che sta diventando. Ma non perché il pensiero sia uno schifo, il pensiero sia brutto e non funzioni. Ma perché le persone, quando si appropriano di un pensiero, quando portano avanti un'idea, cercano di fare il tornaconto. Quando portano avanti un'idea, cercano di avere un tornaconto, un qualcosa di personale che gli rimanga. Vogliono sentirsi superiore perché l'uomo vuole sentirsi superiore. L'uomo cerca sempre il confronto. Cerca sempre la guerra, lo scontro e quello che volete. Perché siamo testardi. Perché vogliamo essere riconosciuti. Perché sì, perché una qualsiasi lotta di parità di genere diventerà sempre una merda. Diventerà sempre una violenza di genere. Qualsiasi cosa che nasce in questo modo, si svilupperà sempre male. Perché una lotta che nasce come la parità di genere contro la violenza di genere, una cosa che nasce contro la violenza di genere, si può tranquillamente trasformare essa in violenza di genere. Perché l'uomo è una merda. Perché noi siamo una merda. Ed è questo che voglio passare oggi, ragazzi. Non è possibile. Qualsiasi pensiero che noi facciamo, ci sia qualcuno che lo porti all'estremo. Ecco perché gli estremi, io vi dico, gli estremi evitate. A qualsiasi costo. Non affacciatevi a un'idea, a un culto, a un pensiero, fidandovi ciecamente di quello che vi dicono. No. Perché poi si finisce in questo, si finisce per odiare le persone. Si finisce per buttare merda. E non va bene. Non ci piace sta cosa. Non mi piace sta cosa. Bisogna farsi un'idea, bisogna informarsi. Gli estremi servono a capire dove può arrivare un pensiero. Se un estremo è tossico, vuol dire che quel pensiero può arrivare a quel punto. Che le persone possono portare quel pensiero a quel tutto. Possono strumentalizzare un qualcosa. Fino a quel punto. Ma noi non possiamo farci più di tanto. Perché la gente è... è una pecora. L'uomo è una pecora. La maggior parte della popolazione è una pecora. Che si fida del capo potente. Che si fida di... il grande, supremo, che gli dice guarda, è così. Questo, questo è un motivo. Loro sono i cattivi. Noi siamo i buoni. Noi dobbiamo fare così. Noi portiamo avanti questo pensiero e siamo nel giusto. Perché tutti credono di essere nel giusto. Tutti credono di essere il giusto. Ok? Non bisogna fidarsi del pastore che prende e che ti porta ciecamente su una via. Devi informarti. Devi capire la storia. Come è andata. Come si è sviluppata. Perché è arrivata a quel punto. Cosa l'ha portata un'idea a quel punto. bisogna capire e infognarsi nella merda. Perché solo se si infogna nella merda si riesce a capire veramente cos'è un pensiero cos'è una setta cos'è un qualcosa. Solo infognandosi si riesce a capire la verità delle cose. Ma se non si riesce ad andare in fondo tutto questo non lo si vede. Si rimane in superficie si rimane dalle persone superficiali. Delle persone che dicono mi va bene così. Mi va bene così. Io sono contento. Prendiamo e demoliamo quello che è anche la dignità di un pensiero. Perché prendendo e appoggiandoci alla cieca fede delle persone noi demoliamo quello che può essere un pensiero. Perché le persone strumentalizzano il pensiero. Strumentalizzano qualsiasi cosa. E se noi ci appoggiamo alla strumentalizzazione di un pensiero distruggiamo il pensiero stesso. Perché il pensiero non è più lui. È quello che la persona vuole farti passare dal pensiero. Ti non stai più appoggiando un qualcosa un movimento un pensiero uno stile di vita. Te stai appoggiando quello che le altre persone vogliono farti passare di quel pensiero di quella cosa. Quindi non dai valore non dai fede al pensiero stesso. Che in realtà probabilmente vuole dire altro. Vuole inculcare altro vuole insegnarti altro. Non bisogna mai fidarsi dell'uomo. Perché l'uomo è una merda. Come sempre diritto di replica diritto di tutto link in descrizione Twitch Instagram Facebook Se volete. Io ve li lascio spero ancora che qualcuno li usi. Soprattutto Discord. Su Instagram c'ho la casella degli invii piena. Perché sono pieno di gruppi del cazzo che mandano completamente messaggi che sono due mesi che non apro quei gruppi. Quindi c'ho scritto 235 e io non vedo se mi inviate la richiesta su Instagram quindi venite su Discord venite su Telegram c'è il gruppo Telegram ragazzi mi scrivetelo anche sotto nei commenti se mi dite no guarda vorrei parlarne più approfonditamente non sono d'accordo con questo che hai detto non sono d'accordo con quello che hai detto avviso importante Twitch Twitch porca puttana perché ultimamente mi stanno linciando Twitch mi sta linciando ho fatto una settimana di assenza Twitch mi sta tagliando le gambe perché se te smetti di streamare una settimana Twitch non ti fa più entrare la gente io sono rimasto con le analitiche che stanno calando a merda in due giorni ho perso tante di quelle persone ok quindi se mi fate la gentile cortesia di venire su Twitch di venire in live perché il follow non serve un cazzo venite in live ok così per favore facciamo risalire stagolito perché non sarà la prima volta questa la sentire altre due settimane a fine di sto mese bene gentile cortesia passate su Twitch guardatevi le live streamiamo ogni mattina alle 10 grazie possiamo parlarne è molto più bello che sta qua davanti a un video che io parlo davanti a una telecamera e devo appena aspettare tre giorni che edito il video carico il video che voi mi rispondiate nei commenti che io vedo i commenti che io vi risponda che ci prendiamo ci accordiamo andiamo su Twitch vieni su disco ne direi la stanza no finite su Twitch noi parliamo direttamente con la chat vi lascio il link qua sotto tutto qua sotto e per favore ragazzi smettiamola di assecondare gli estremi ok smettiamola perché non serve a niente